dalla sua una serie di incontri positivi, ha vinto con Barmish, ha vinto adesso con Madawi, ha vinto con, soprattutto, ha vinto con l'Ucraino Pavlov, ne ha messo di fieno in cascina, ne ha messo tanto, Pavlov che riposa a questo turno, ecco, ci sarà da vedere ancora il turno successivo che vedrà opposti Madawi con Pavlov, però, da come ho visto Madawi, in questo momento la preparazione dell'iraniano di Sejano non è proprio al massimo. Tappeto B abbiamo Alisher Zoldashbai contro Nathan Rainville, Canada. Ragazzi, qui siamo ai 74 kg, under 20, c'è questo Kazako che è veramente, è impressionante, fortissimo. Zoldashbai ha vinto il suo primo match contro Jan Heimug del Canada, è forte questo ragazzo, già 6 a 0, tanto stanno lottando nella 97 kg, andiamo a vedere, 8 relay che con costume blu è sotto per 4 punti contro che Zlidze, David, e qui abbiamo probabilmente due fratelli, se non che gemelli addirittura dell'Ucraina, questi due ragazzi che si trovano tutti e due a lottare contro questo ragazzo canadese. Il primo, Murazzi, ha vinto per superiorità tecnica contro 8 relay, adesso l'altro David Kelizze è in vantaggio, 4 a 0 sul canadese appunto. Intanto c'è un 10 a 0 dall'altra parte di Alisher Zoldashbai, il Kazako che fa un sol boccone di Nathan Rainville, 10 a 0. e tocca già immediatamente di nuovo.